E il fenomeno delle baby gang è in crescita, come ci racconta un dossier che ha tracciato una mappa delle bande italiane. Giuseppe Lavenia. Non solo trapper con la pistola e faide tra gruppi rivali, c'è la rabbia delle periferie e la violenza come status simbolo nella prima fotografia delle baby gang italiane. Ogni gruppo è composto da meno di 10 membri, spesso legati da rapporti di amicizia, hanno tra i 15 e i 17 anni. Un fenomeno in costante e preoccupante aumento in tutte le regioni, dalla Lombardia alla Sicilia, ma è soprattutto il centro-nord a contare il maggior numero di denunce. Le telecamere di sorveglianza di piccoli e grandi centri svelano la violenza delle loro azioni, prendono di mira coetanei i giovani indifesi ragazzi con disabilità. Risse, lesioni, bullismo e atti vandalici sono i reati ricorrenti, ma non mancano furti e rapine, a volte anche lo spaccio di droga. Quattro i tipi di bande, alcuni si ispirano alle mafie italiane, altre, le più pericolose, alle gang criminali straniere. I social hanno ovviamente un ruolo, nel senso che le attività che magari prima rimanevano isolate in una cerchia locale, adesso hanno una diffusione nazionale o addirittura internazionale, quindi possono scatenare degli effetti emulazione. La mappa è stata realizzata con i dati della Banca Interforce di Polizie e Carabinieri, il rapporto universitario di Transcrime ha coinvolto i dipartimenti della giustizia minorile e della pubblica sicurezza.